Oggi la giornata è quella dei diritti umani, dignità, libertà, uguaglianza, fratellanza. Perché? Dobbiamo ricordarlo. Perché ancora da oggi persone soffrono per le differenze di religione, di sesso o di etnia. E questo anche in Italia. Non è passato troppo tempo che una ragazza di Adria ha perso la vita. E questo è una ferita che ce la porteremo, è una cicatrice sulla nostra storia, sulla nostra pelle, anche se magari non la conoscevamo direttamente, ma è successo e non si può tornare indietro. E questo è un monito, è un monito a tutti, a noi uomini prima di tutto. Perché abbiamo qualcosa che non funziona dentro, non dico tutti, perché io immagino che quelli seduti qua siano tutti bravi ragazzi che non faranno mai sciocchezze. Questo strumento qua è molto pericoloso, perché la violenza non è solo dare gli schiaffi o offendere. È anche far girare filmati. Qualche settimana fa è risuccesso ad Adria, almeno abbiamo letto dai giornali, abbiamo generato dei filmati che dovranno rimanere nella sfera privata tra due persone che avevano avuto una relazione a fare di loro. Voi siete giovani, non me lo ricordate, un po' di anni fa una ragazza di Adria si è suicidata perché un video che la ritraeva è stato mandato in giro. Si è suicidata, si è sparata con una pistola in testa. Io chiedo scusa se sono un violento, ma è inutile che vi dica le favole, Walt Disney va tutto bene. Dopo andiamo a vederci anche Elsa con piacere, ci stanno le favole, bisogna anche ogni tanto evadere e pensare cose belle. Però penso che possa essere più importante oggi parlarvi seriamente, siete uomini, siete donne, lascio ad altri raccontarvi le favole. E vi chiedo veramente di impegnarvi perché guardate per quanto il sindaco possa fare, la consigliera possa fare, il centro antiviolenza possa fare. Siamo noi che possiamo cambiare la realtà, ma noi intesi, ognuno di noi, facendo passaparola magari oggi al telefono, in chat o al bar, facendo due chiacchiere anche con i nostri amici, facendo una riflessione con il vostro linguaggio, con il vostro modo di dire le cose. E sappiamo che però se non lo facciamo ognuno di noi il rischio è che succedono queste cose, perché queste cose succedono, ma non succedono sempre distante, succedono qui vicino a noi, ad Adria, a Porto Tolle, ad Ariano, a Corgola, dappertutto succedono. Oggi in particolar modo abbiamo appunto voluto dedicare questo momento a darvi un messaggio contro la violenza di genere e ricordare la nostra Giulia, perché è la nostra sorella. Esiste una legge molto importante che si chiama codice rosso. Questo cosa vuol dire? Che quando una ragazza, una donna, una bambina è in difficoltà e si chiama il numero di emergenza, i carabinieri, la polizia, intervengono immediatamente, anche se stanno facendo altri tipi di azioni sul territorio, in base a questa legge, per fortuna, finalmente, intervengono immediatamente, cioè si dà una priorità a questo tipo di violenze. ci sono voluti tanti anni, siamo negli anni 2000, però ci siamo arrivati, almeno, insomma, diamo la cuna, una buona notizia. Ci sono gli sportelli anti-violenza, bisogna sapere che esistono, dove sono sul territorio, che giorni sono aperti, ci sono dei numeri verdi e dei numeri attivi, 24 ore, per cui troverete delle persone, se c'è necessità, che sono pronte ad aiutarvi, a darvi delle indicazioni, a essere a vostra disposizione. Ecco, questo io vi chiedo, e auguro, e sono sicuro che lo farete, facciamo passaparola, perché sono cose che conosciamo, ma in realtà non conosciamo. Solamente una cosa, sono contento che la presenza qui dentro oggi sia dei giovani, perché siete voi che avete il fratello pesante da portare verso il futuro, siete voi che dovete parlare con i vostri amici, siete voi che dovete ricordare queste giornate importanti. Sono l'educatrice del centro anti-violenza. Noi volevamo partire da, cioè ci facciamo ogni giorno, durante il nostro lavoro, delle domande su come nasce la violenza all'interno di un rapporto e soprattutto quali sono i campanelli di allarme da non sottovalutare. Purtroppo, come si vede, la violenza oggi non è una cosa che colpisce poche persone o solo persone grandi, ma anzi nasce addirittura tra i banchi di scuola, tra le prime relazioni per poi andare a finire anche nei matrimoni. Per me la violenza in un rapporto è anche il non potermi esprimere, non poter parlare con altre persone perché il mio fidanzato ha una gelosia possessiva nei miei confronti, mi controlla il telefono. Io credo che, proprio in riferimento alla dichiarazione universale di diritti umani che oggi è la giornata, credo che ad oggi, nel 2019, non si può parlare di uguaglianza, piena uguaglianza fra uomo e donna. Ringraziare personalmente di cuore l'amministrazione, la pubblica amministrazione e le associazioni coinvolte per la sensibilità che hanno avuto nello stare vicino alla famiglia Lazzari, come poche in poche occasioni ho visto, devo dire che è vero. L'altra cosa molto importante che volevo dire è che questa panchina rossa rappresenta il simbolo per la lotta alla violenza di genere, se Giulia stessa diventerà ed è divenuta questo nostro simbolo, perché certe cose non possono mai più assolutamente capitare e perché tutti gli operatori del diritto, compreso gli avvocati, si sensibilizzino profondamente. Nessuno si illude che una panchina rossa possa cambiare il destino delle donne, ma di certo sarà un luogo fisico per la diffusione della consapevolezza rispetto alla tragicità di questo dilagante fenomeno criminoso. Il nostro dono è stato fatto con l'intento che possa contribuire nel quotidiano a far sviluppare nella nostra comunità l'affermazione della cultura e del rispetto, perché l'amore non lascia lividi, non ti minaccia né ti uccide. Ringraziamo perché siete stati molto attenti durante la giornata di oggi, avete ascoltato e siamo sicuri che adesso ci facciamo una promessa tutti quanti insieme e che tutti quanti la manteniamo. Sfruttiamo la giornata di oggi per informarci e informare le persone a noi vicine. Penso che questa sia la più bella promessa che ci possiamo fare, il più bel impegno che ci prendiamo oggi. Questa panchina è il simbolo di questa promessa. Grazie mille. 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 Grazie mille.